Allora, consigliere Azzalini, posizione del PD è sua, insomma, d'altro lei è anche in regione, in consiglio? Da questo punto di vista noi siamo, diciamo anche noi, non solo perplessi, ma siamo contrari, insomma, questa deregolamentazione, come è stata definita, insomma, l'abbiamo sollevata subito e visto dal punto di vista dei consumi, il cosiddetto Salve Italia si è rivelato giustamente, come è stato fatto notare, un flop. Se abbiamo avuto una ripresa, la si deve in realtà a qualche timido, anche se pur timido, segnale di calo della disoccupazione, diciamo che è un po' di ripresa che c'è stata, insomma, ecco, e quindi questi sono gli indicatori che in qualche modo incidono, insomma, non tanto il ragionamento delle aperture domenicali, come faceva notare l'assessore, ha di fatti spalmato su più giorni quello che invece prima veniva fatto in meno giorni, insomma, è un, fra virgolette, un servizio in più che viene offerto a chi magari vuole andare a fare acquisti in giornate festive e quant'altro, ma questo, voglio dire, alla fine non è, secondo me, comporta dei costi sul piano sociale non indifferenti, ma anche economici, direi, perché questo ragionamento che è stato abbozzato dall'assessore ripreso sullo svuotamento dei centri storici che va avanti da anni ed è un continuo, perché mentre noi parliamo, anche se crescono i consumi da un certo punto di vista, però i negozi di vicinato in particolare continuano a chiudere, continuano a chiudere, i centri storici continuano a svuotarsi e allora su questo va bene la critica, magari anche un po' di autocritica, perché la grande distribuzione ha potuto proliferare in questi lustri grazie anche a una mano larga della regione, se lo vogliamo dire tutta però voglio dire adesso, visto che le cose ci dicono che così non può andare avanti, perché i costi per le città per i centri urbani sono molto pesanti e questo non, allora bisogna fare marci indietro in maniera intelligente insomma, quindi ad iniziare anche da questa questione delle aperture domenicali, non è solo un problema dei turni massacranti, incredibili, voglio dire, illogici sotto certi profili, ma voglio dire questo non è né sinonimo di aumento dell'occupazione, né sinonimo di presa dei consumi, tutto quello che ci va dietro, insomma condivido la formula, prevale la legge del più forte perché diventa una giungla, ecco qua la regolamentazione regionale ma anche statale sotto un certo profilo ci vuole e credo che sia giusto tornare indietro, fare tesoro degli errori insomma che si sono fatti, ecco da questo punto di vista noi siamo disponibili a collaborare con la giunta, l'abbiamo già manifestato Esatto, quindi dopo in regione, ma secondo lei come PD più che altro perché in regione la situazione, come diceva anche l'assessore, le competenze quelle sono, perché visto che più di un anno c'è questo discorso aperto, più di un anno che si lamenta questa situazione non è stato preso nessun provvedimento di legge governativo tale da poter cambiare la situazione, cioè quasi se ci fosse, le persone cosa dicono? Ma perché in fin di conti ci sono degli interessi con queste grandi distribuzioni, queste multinazionali estere a tenerle dentro il nostro Stato? Non so se è determinato il peso delle lobby che c'è e quindi voglio dire la grande distribuzione in qualche modo agisce insomma e spinge una certa direzione ecco io credo che provocatoriamente, ho letto che insomma l'assessore del mercato dice tutti i candidati si devono in qualche modo esporre mettendo chiare lettere nei loro programmi che sono contrari e quindi forse arriveremo in porto magari ecco, è un modo per dire che da questo punto di vista occorre scegliere insomma perché tutti a parole o la grande maggioranza parole vede insomma era avvisa in questo dei limiti e pare non esserci grandi contrarietà però poi alla fine i provvedimenti non vanno avanti ecco credo che sia giunto il momento di assumersi le proprie responsabilità ecco da questo punto di vista. Se bastasse una legge regionale di iniziativa statale insomma dichiarata regionale noi la faremo o la sosterremo subito ma quella sappiamo che poi fa la fine insomma che fa insomma quindi sarà l'autonomia per quanto riguarda la regolamentazione degli orari che ci viene che ci viene incontro sarà qualcosa altro morale insomma ci deve essere una volontà politica espressa a più livelli per risolvere questa questione insomma ecco non credo che sia un atto in sé purtroppo adesso siamo alla vigilia di una campagna elettorale che si preannuncia cioè su tutt'altri binari insomma il confronto purtroppo credo riguarderà altre questioni però penso che... Eh ma si sta già cavalcando a livello politico comunque... Ma sì è una questione... Questa è già una delle prime questioni... Però insomma bisogna su questo girare pagina perché non è solo un problema ripeto di chi lavora e qua insomma si è andato a stravolgere anche quelle che sono le abitudini culturali, le abitudini insomma non solo però i centri storici, le nostre città, i nostri paesi insomma ne soffrono tremendamente insomma cioè quale iniziativa può fare un'amministrazione comunale quando si dice dobbiamo salvaguardare i piccoli negozi, tutte queste cose... Cosa può fare se da un l'altro lato va avanti diciamo attraverso tutta una serie di politiche che di fatto non le stoppano la grande distribuzione dei centri commerciali all'infuori? Ormai è diventato anche una moda, anche un modo per passare il tempo anche semplicemente per fare una passeggiata, la gente non va più nel centro storico o ci va sempre meno e quindi questo ecco perché è grave la situazione anche sotto questo profilo, non è solo un problema diciamo di economia e di tenuta della rete di vendita. No dopo infatti sarà l'obiezione che porrò... Ma vabbè capisco ci mancherebbe solo quella, beh a parte che Padova però per esempio Rovigo è quasi sempre deserta insomma no è Rovigo non è... Ma l'è un discorso, dopo farò l'obiezione a voi sul discorso ben preso di attrattività perché anche io ho fatto delle piccole... Mi sono mossa sul territorio per vedere un po' come andava, ho notato delle cose particolari. De Panizzi, quindi voi che cosa, qual è la posizione che riscontrate e perché è stato organizzato quindi uno sciopero, con questo diciamo che ci sarà uno sciopero in 22? Allora le cose si uniscono, da una parte è la battaglia che continua da anni per le aperture indiscriminate del lavoro delle domeniche e tutto quello che è stato detto finora è giustissimo. Quindi c'è l'aspetto valoriale anche da voi? Valoriale, prima. Secondo, questo è un paese che ha una caratteristica, viene l'Italia avanti con il turismo, con l'arte, con la cultura. Allora se noi dobbiamo rendere particolare il nostro paese e non renderlo uguale a un'America che ha creato un centro commerciale per fare nucleo, per fare città, perché aveva degli spazi enormi e non aveva la possibilità di avere un centro storico, non è che dobbiamo andarci a prendere dei modelli che non ci appartengono. Quel modello che ci appartiene è il centro storico, dove c'è la caratteristica della piccola attività come anche un negozio più grande perché la standa di una volta sempre attirato nelle città, nei centri storici ci sono sempre state queste realtà. Però potevi trovare il, che ne so, il maglioncino dozzinale uguale dappertutto che ti ritrovi da Torino a Catania perché è della grande distribuzione ma ti trovi anche il prodotto particolare. Tutto questo va a finire che lo stiamo perdendo perché nell'evoluzione di questi anni del lavoro domenicale abbiamo regalato quote di mercato alla grande distribuzione che poteva sostenere il peso delle aperture domenicali quando il piccolo che era conformato da un proprietario, magari uno o due commesse, non se lo poteva permettere. Nell'evoluzione gli ipermercati comunque nel periodo di crisi non si sostenevano neanche loro perché se io ho uno stipendio che è di 1000 euro, il mio potere d'acquisto che si è aperto di 6 giorni o di 7 giorni, sempre 1000 euro rimangono, è che io li spalmo durante la 7 giorni. Ma lo stipendio è rimasto quello tuttora? Che è rimasto uguale a tale e quale per noi in questi ultimi anni. Perciò se io vado a comprare la domenica vuol dire che non porto mio figlio al cinema o non vado al parco giochi insieme a tutta la famiglia, imbruttisco una situazione etica di quello che è il valore della società. Perciò questo è un primo discorso. Dall'altro hanno espulso dal mondo del lavoro perché alla fine io rappresento quei lavoratori che hanno i contratti dove ci siamo confrontati con le altre controparti. Nella grande distribuzione, quelli che erano i grandi, i forti, che dovevano sostenere, non hanno avuto grandi aumenti. Secondo, hanno organizzato un turno che se prima era di 6 giorni, adesso è su 7 giorni, perciò una prima parte dei lavoratori si è già stato espulso dal lavoro perché non ce la faceva sostenere questa caratteristica. E di contro, le persone che sono state assunte al posto hanno dei contratti precari. E questa è un'altra situazione. Abbiamo fatto un sondaggio, un lavoro nella provincia di Milano perché per territorio era molto eterogeneo, non era suddiviso tra commercio e turismo come da noi, ma era caratterizzato dal commercio. Su 100 lavoratori solo lo 0,25 viene assunto nella grande distribuzione con un contratto di più di un anno. Lo 0,25 su 100. Il 38% per un giorno e il 42% per 10 giorni. Questa è l'alzamento. Solo Amazon fa di peggio. Esatto, ho pensato ad Amazon. Questo è solo l'ingresso, dopo si arriverà. Ma alla grande distribuzione l'e-commerce non interessa perché già la applica. Il problema è che noi dobbiamo tutelare i lavoratori che costano il tessuto connettivo delle regioni. Ecco, perfetto questa posizione. Io pongo l'obiezione a entrambi che rappresentano il commercio, poi questo vi agganciate anche voi. Ma non è che c'è meno attrattività da parte della piccola distribuzione rispetto alla grande. Perché se io anche apro un grande centro commerciale, ma non sono attrattivo, io continuo ad andare dal piccolo perché mi sono fidelizzato, mi trovo bene, eccetera. Io notavo, mi faccio l'obiezione, mi metto da parte del diavolo perché ci deve essere qualcuno che lo fa, altrimenti qui non viene fuori. Però, per esempio, ho girato in questi giorni, quando potevo, e sono andata dal grande centro commerciale che esiste in provincia di Venezia, grande cittadella, eccetera, e la cosa sconvolgente, pieno di macchine, una cosa impressionante, tutte le persone, ma tutte, mi sentivo un pesce fuori d'acqua, tutte con due o tre borsette firmate, quindi non sono cose che costano due euro, ma bei pachi, tutti che avevano due o tre borsette, erano italiani, tra l'altro. Passiamo a Natale, c'è sempre stata l'apertura in questo periodo. Vado a Mestre, bellissima, devo dire un encomio a Mestre, perché l'hanno fai, è un preseggio, bellissima, l'ho fatta molto molto bella il centro, quindi è incomiabile il lavoro che è stato fatto, pieno di mestrini, anche uno spettacolo in piazza, carinissimo, però la cosa in particolare è che non vedevo i negozi pieni, come invece nel grande centro, e poi c'è un vicino centro commerciale anche a Mestre, anche lì, strapieno dentro i negozi. Allora dico, ma caspita, la città era attrattiva come Padova, poi peraltro, perché anche Padova so che era pieno di gente, il sabato, eccetera, e altre città, ma non altrettanto i piccoli negozi. Vai in queste altre cittadelle artificiali, che non lo sono, non si erano così belle come, ho fatto l'esempio di Mestre, perché una volta era l'esempio della poca attrattività, adesso l'hanno ben trasformata, o magari anche Padova, che potesse carina, ma non i negozi. C'è un problema, secondo voi, chiedo Francescon, chiedo a lei... Di parcheggi. Di... c'è un problema, perché sennò la gente a un certo punto... Ecco, dico il Natale, sto parlando del Natale, perché è la festa per antonomasia, non è per agosto. E anche in questione di educazione, perché se tu educhi, anche il cliente, a venire nel tuo negozio, e gli dici, vieni alle 9 di sera, perché c'è un particolare evento, o così, lui viene alle 9 di sera. E quindi io ritengo che abbiamo svuotato le città, perché questi megacentri, a parte avere d'estate l'aria fresca, d'inverno l'aria calda, avere i parcheggi comodi, quindi qualcuno per comodità... Quindi la comodità. ...e semplificare un po' la vita, così, ma andiamo al centro commerciale. Quando si perde il valore della città, quando che poi sento qualche, anche il sindaco, che dice, beh, casomai creiamo dei pullman per andare al centro commerciale. Quindi si favorisce tutto e tutti per andare al centro commerciale. Per me è una questione di educazione, bisogna riportare la gente ai valori, ai valori quelli veri, cioè il negozio di vicinato serve, è un valore sociale, perché noi dobbiamo anche far conto che abbiamo anche una popolazione anziana, un certo tipo di... e quindi questi non possono partire in macchina e andare al centro commerciale. E se non viene sostenuto il negozio di vicinato e chiude il negozio di vicinato, abbiamo un problema anche sociale. Quindi i centri, non parlo di Padova o delle megacittà, metropoli, parlo anche dei centri minori, dove se vengono svuotati... Dopo non diventa un problema. L'attrattività diventa qualcosa di improponibile. Assolutamente. Abbiamo fatto dei grandi errori. Ecco, tra l'altro, parentesi, in questi grandi centri ci sono già gli sconti, questi aldi, sono già i saldi. Sì, questo è un altro problema in trazione alla normativa. Credo che abbiamo fatto dei grandi errori. Se pensiamo che tutte le attività direzionali, negli ultimi 15 anni, le abbiamo trasferite fuori del centro storico. Pensiamo a Padova, l'Inps, l'Inail, la sua Camera di Commercio, tutto spostato fuori. L'unica capacità di attrazione che c'è oggi all'interno del centro storico, da lunedì al giovedì, a venerdì, sono i negozi, e forse il comune municipio. Quindi ti va in centro solo se... Cioè, tutto il direzionale che era ubicato nei centri storici noi l'abbiamo trasferito negli ultimi 15 anni fuori dai centri storici dicendo che è un problema di intasamento del traffico. Trasferendolo fuori, non abbiamo più un problema di difficoltà di traffico. Sicuramente questo ha comportato anche qualche difficoltà nella costruzione e nella competitività di quella che è l'offerta commerciale. C'è poco da fare. Gli abbiamo penalizzati, messi in crisi, qualche problema ce l'hanno avuto, poveretti. Non solo non dimentichiamoci che oggi si vende nel settore della moda al 70 e oltre il per cento con sconti, riduzioni, liquidazioni, quindi con impossibilità da parte delle esercizi minori di rinnovare tutto quello che è la loro possibilità di diventare competitivi. A questo ci aggiungiamo delle problematiche per quanto riguarda l'accessibilità delle città che ci sono. Non c'è solo Padova che ha problematiche di un certo tipo. Io penso a cose abbastanza semplici. Pensiamo ai mercati di ortofrutta. In un certo storico i residenti sono ormai pochissimi, ma chi a che parte va a comprare 5-6 kg di frutta per farsi un chilometro a piedi per arrivare al parcheggio? È evidente che non esistono più questo tipo di possibilità. Possiamo anche metterci il tram, ma è chiaro che se non abbiamo dei parcheggi comodi, difficilmente riescono a fare. Cioè il costo del tram ti ammortizza quello del vantaggio del mercato? C'è questa iniziativa, io non approfitto per ritorno a mai, credo che il mercato sia anche annoiato a forza di sentirmi. C'è questa iniziativa che abbiamo portato avanti con la regione, quella dei distretti del commercio. Ci dispiace moltissimo che non siano rifinanziati, perché la normativa europea crea qualche difficoltà nel finanziamento agli enti pubblici. Però io credo che da un lato questo bando, per cui sono stati riconosciuti altri 52-53 distretti del commercio a livello Veneto. Lo sforzo che stiamo facendo come associazioni da questo punto di vista sia veramente un punto di partenza assessore su cui dobbiamo veramente metterci per ridare competitività con tutti gli strumenti possibili e immaginabili. Quindi dei distretti è una scelta su cui dobbiamo continuare, anche se ha ragione, dobbiamo riuscire anche a trovare qualche formula che blocchi i nuovi insediamenti. Io qui ne stiamo proponendo una da tempo, perché tutte le altre mi sembra siano impossibili, che è quella di chiedere che chi vuole costruire un grande centro commerciale, una grande struttura, paghi, versi, faccia una fideiussione a favore del ente pubblico, del ente locale, in grado di ripristinare quell'intervento, quell'area, qualora questa non funzioni, lo fanno già alcuni stati americani, io credo che sia una riflessione che va fatta, perché altre formule non le vedo. È vero tutto quello che vogliamo, ma vale tutto per il nuovo, quello che c'è ed è tanto, già previsto non si può fermare. Noi l'abbiamo visto a Deccarare, l'abbiamo visto a Venezia, l'abbiamo visto in un sacco di posti, anche da dove abbiamo delle amministrazioni che cercano di bloccare. Credo che alcune riflessioni marcate su questo vadano fatte, ma credo soprattutto un aspetto, cioè abbiamo la necessità di ridare competitività, da dove ci siamo riusciti, dove abbiamo lavorato insieme Ascom con Pesercenti, qualche risultato ce l'abbiamo e voi andate a Piove di sacco, andate a Este, andate a Cittadella, tanto per cittarne alcuni, e troverete che la competitività, l'attrattività brava, dei negozi c'è. Probabilmente dobbiamo fare un salto, su questo ha ragione, hanno ragione anche i tuoi tecnici di mercato, passare da distretti del commercio a distretti dell'attrattività. Pensare che sono qualcosa di diverso, lo dicevi tu Cecilia, cominciamo a ragionare sul fatto che oggi innovazione, scusatemi anche su questo credo di essere ormai noioso, e mentre i tre spettatori non vi hanno mai sentito, non pensate di essere ripetitivi perché non sono dentro le... Ma guarda, credo che oggi innovazione, quando si parla anche il ministro Calenda che dice che innovazione è e-commerce, non è più questo, innovazione oggi è garantire la qualità della vita, innovazione è che gli altri stati ci invidiano per la qualità, scusatemi, ci invidiano per la qualità della vita che abbiamo nei nostri centri urbani, noi ci andiamo, scoppiazzano sulla nostra qualità della vita, in Cina fanno l'e-commerce, no, il centro commerciale che si chiama Venezia, quello che si chiama Florence, tanto per capirci, però è evidente che innovazione oggi significa, a mio avviso, trovare gli strumenti per garantire la qualità della vita che noi abbiamo e farla crescere se è possibile, le altre cose è un'innovazione tecnologica che non credo interessi molto agli uomini. Allora, no, facciamo così, per dare spazio a tutti e tre, perché le porte politiche sono interpellate, c'è stata un po' questa provocazione che abbiamo fatto, vediamo, andiamo in pubblicità, così abbiamo più tempo da dedicare, pochi secondi. a presto!